Perdere così fa male perché comunque abbiamo lavorato molto bene in fase di non possesso, abbiamo lavorato bene anche in fase di possesso, forse abbiamo sbagliato l'ultimo cross, forse abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra veramente forte secondo me, quello ho detto alle mie giocatrici, anche con la Roma abbiamo fatto un grande secondo tempo da 2-0-2-2, dobbiamo crederci, dobbiamo allenarci sempre bene come stiamo facendo e crederci perché il campionato è lunghissimo, ci sarà il ritorno e poi ci saranno anche altre partite, quindi sono incazzato, sono arrabbiate le mie giocatrici, però ho fatto anche altre prestazioni, non portare a casa un punto questa sera è stato un po' ingiusto secondo me.